è partito il nostro video ciao amici oggi un video diverso cioè non diverso un video particolare cosa ho voluto fare in pratica visto che comunque andando avanti col tempo arrivano tanti iscritti nuovi che non dico magari quasi sicuramente i video vecchi non hanno avuto modo di guardarli perchè giustamente comunque si aggiornano con tutti quelli che arrivano giorno dopo giorno mi è venuta un'idea io ho una fanpage che mi hanno creato su facebook che seguo tantissimo seguo davvero tanto infatti sono molto molto attiva è un gruppo più vabbè se fate i bravi ci potete inserare ma dovete fare molto i bravi se no gli admin vi cacciano fuori ho messo un post dove chiedevo appunto a loro che sono quelli sfidati quelli che più si relazionano con me di cercare tra tutti i miei video che ho fatto qualche scena che li ha fatti divertire da quando ho aperto il canale fino al giorno d'oggi loro ovviamente sono messi lì sono messi a cercare mi hanno messo il video e i minuti tutto preciso e io ho voluto realizzare un montaggio delle scene più divertenti per loro e anche per me per far vedere agli iscritti nuovi un po' cosa ho combinato io durante questi due anni due anni e poco più su youtube quindi ragazzi pronti a farvi una risata si sono anche cambiata durante il tempo vabbè ci sta tutti cambiano si impara si cresce si fanno cose nuove vi lascio il video preparatevi a ridere vi mando un bacio grande ciao vi lascio il link in descrizione del mio gruppo di video sappiate che vi controllo e li ecco tutto qui c'entra la Nicole c'è anche l'altro anima chi è anima? è Sasha è tipo uno dei youtubers più grandi in Italia secondo me lei conosce qualcosa di grande di suo ma non il canale scusa un attimo scusami ma poi ti è su youtube cioè ci metti anche tutti quelli che escono che si fanno le sechine però ce ne assurate la volta che tu te li guardi eh c'è proprio ora il morto doveva morire paviglione e toma no vedi cazzo non si mai si sfilò ai boxer con un gesto netto e mi penetrò padiglione dei videogiochi c'entra aspetta aspetta arriva subito arriva subito non dovete fidare troppo amici vado fk la donna del poliziere deve starlo dire eh chieda scusa subito scusa scusa che cos'è le spalle ora aia non sto in mente allora dobbiamo darci le mani e cantare nella vecchia bandolaria Questa è buona, ciao amici, questo direttore giù la Claire del box adesso Rosse di mini Ex ginnasta, ma come faccio? No raga come si fa? No raga ma qua non ci sono gli appelli, sono piccolissimi Dimmi che non devo toccare quella campanella che c'è in cima Raga sono finite i picchiatti, vi siete dimenticate di metterli? Ma ce ne sono più Paglia Già il primo è morto adesso loro No Hai mai pensato di rifarti le tette? Vi immaginate una sabri big boobs? Aspettate Come sto? Sono carina Beh Ciao ragazzi Mi sono rifatta le tette No ragazzi è impensabile una roba del genere Ma vi immaginate? Ma a parte che ho i semi verdi che escono dal lato Andiamo come a finire che diventa qui Tranquille Rage quittare che tutti conoscerete Rage quittare è praticamente quando stai perdendo che esci dal gioco veramente incazzato No Aaaaaaaaa Brevissimo video per dire Ma ti vedo perchè sarà stabile Oh mia che roido Bravo amore Oh no no Oh no no Sì quella staresti tu E' la tua madre No Aiuto mi sono attrappata papà Mi hai messo le bretelle papà E' un mostro basta attaccarlo Lo so però a me mi mette paura perchè viene con le mani avanti e sembra che mi vuole palpare il tette C'è una moda è difficile No serve per non farsi sgamare dagli enderman Mostri che proprio non conosci Ah vabbè 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 Allora se non mi vedo gli enderman Eh? Sle enderman lì Allora starò ovviamente nel padiglione dei videogiochi Nonna se non lanci la cuccia mentre sto registrando E' il lancio della cuccia Fammi vedere una mossa anche io Cosa stai per fare? Siamo già troppo vicini me ne vado Perchè col barattolo di pangrattato cadeva Nesquik mi sembra un po' più stabile vedete la mia postazione Scatola dall'Xbox che tiene su Nesquik e fifa c'è su dietro Volevo diventare un lottatore di sumo Con il gejah Come hai fatto a schizzarmi in bocca? Ho lo schizzo facile Inizia a cantare con la tua chiterrina Io sono il re Il più grande pene che hai visto ad occhio Ad occhio Quanti centimetri mesurati Ma potete chiedermi qual è il pene più lungo che ho visto? Ma chiedetemi non lo so se ho mangiato un tiramisù No è il pene più lungo che ho visto Guarda 3 2 1 Che scherzo Dovete i capelli Secco eh Deciso Via 1 2 3 1 E torno Lobi BASTA Arrovinano tutto il portiere Tiralo dentro Misu Ecco vedi Qual è il tuo tipo di calcio preferito e subito dopo mi succhi le dita dei piedi Voi siete Scusate è il cane che passa davanti alla luce ho un problema in questa casa sapete che ho il cane Il cane mi parla No Tanto non saprete mai chi c'è qua sotto Quanto spesso Ah stai già parlando? No sto andando a fare la spesa Allora praticamente abbiamo fatto una sfida ed è finita quasi in pareggio Sentiamo Mamma Cioè Nonna sei proprio sexy Mi stanno indurando i capezzoli Nonna Nonna Mi vieni a lavare la schiena come quando ero piccola Uè Uè Doraemon Doraemon Che gatto speciale Solo tu ci regali Che gatto speciale Voi cantare Nooo Ho capito perchè sono dove c'è il pezzo nero giusto? Si esatto Aspetta c'è un rumore strano no 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 Aspetta sento Aspetta Guardate che bella pianta Sasha potresti regalare un fiore a tua cugina Che carino che sei sei proprio carino Grazie È lei Ma non è Mr. Olimpia Questo è un tuffo Di piscina Va a vedere la sua maestrosità La sua maestrosità Lei è Sabrina Della sua maestrosità Cartello Sabri vuoi aprire il frigo? 10 squat Grazie Così se voglio aprirlo Mi tocca Mettermi qua E fare 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 5 6 8 9 9 10 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 23 20 20 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 28 28 29 29 29 29 31 32 35 36 40 41 42